Ravezzani avverte, appello Juventus. Ho visto quello che ricordo è successo a Napoli. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. C'è grande rabbia tra i tifosi della Juventus dopo la decisione della Corte d'Appello della FIGICI che ha sanzionato la Juventus con una penalità di 15 punti. Ma c'è l'appello che può far crollare tutto. Fabio Ravezzani penso così su Twitter, Juve Update. Il collegio di garanzia del CONI è quello che ha rovesciato un anno e mezzo fa le sentenze di condanna di Napoli, presidente fu il compianto Frattini. In questo caso, può confermare la sentenza, annullarla, inoltrarla ad un altro corpo FIGICI, in alcuni casi rimodularla. Le parole del direttore di Tele Lombardia hanno suscitato i fan nei commenti, sì. Ce ne sono voluti 15 per darne alcuni alla fine. Non per essere troppo ridicolo subito. Se la caverà con 5 punti o più. Ma la gente dice che rischia di più per i salari nascosti, fruolo Ronaldo, è così? Sono poco informato perché non voglio essere ingannato. Un altro fan ha poi sollevato dell'Aurentis sulla plusvalenza per Osimen. Fabio lo sai che alla luce dei fatti molto gravi, ipotesi di crimine non sentita, chi ne ha chiesto il fascicolo al pubblico ministero a seguito di questo caso? Sai, i conti falsi penso che sia più grave di una telefonata in cui sì. Non perderti nulla.